Quello di oggi è probabilmente il video più importante dell'intero corso di DeFi perché parla dei DEX, gli exchange decentralizzati, che sono le piattaforme più importanti e più utilizzate appunto dell'ecosistema DeFi. Questo perché le si utilizza per farmare, quindi per guadagnare un'ottima rendita sulla propria liquidità, nonché per fare scambi senza bisogno di una piattaforma centralizzata con i rischi che ciò comporta. Nel video di oggi andiamo a vedere come abbiamo fatto l'ultima volta la teoria ma anche la pratica sui DEX. Siete molto chiari quando me lo chiedete, volete i tutorial pratici e quindi io ve li do. Partiamo dal capire come funziona un DEX con tutte le logiche che ci stanno dietro, sia lato trading che lato farming e poi le mettiamo in pratica. Prendiamo in mano i DEX più utilizzati, Pancake Swap, Uniswap, ma anche quelli più strani, Curve, Balancer, WWS. Veramente ve ne ho portati più di 10. Secondo me ho fatto un lavoro da certosino e spero che lo appreziate perché la pratica è utile per prendere la teoria e concretizzarla e capire di fatto come si utilizza, come ci si muove passo dopo passo. Non vado avanti ulteriormente in chiacchiere perché sarà un contenuto molto lungo ma spero veramente che appreziate perché quest'ora di video che voi guardate a me ne accostate almeno 3 o 4 volte tanto di produzione. Quindi apprezzatemi veramente tanto, ve lo sto dicendo, perché soprattutto come sempre è tutto gratuito con slide scaricabili dal link in descrizione. Vi chiedo un'ultima cosa, per piacere lasciatemi feedback e commenti, nei commenti per l'appunto, perché queste puntate, questi video li sto facendo insieme a voi. Cerco di venire incontro alle vostre esigenze e alle vostre domande, quindi se ne avete per le prossime puntate vi chiedo di lasciarle nei commenti così che io mi possa regolare. Via! Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Quindi addentriamoci sempre di più nell'uso delle piattaforme DeFi partendo da quelle che secondo me sono le più frequentemente utilizzate, sia per scambiare, sia per farmare, ovvero per ottenere rendita sulla nostra liquidità. Sto parlando dei DEX, termine che sta per decentralized exchange, ovvero exchange decentralizzati, che sono appunto piattaforme che permettono lo scambio senza un intermediario e dall'altra parte di fornire liquidità per una rendita interessante su praticamente qualsiasi chain. Come vedremo oggi ce ne sono di diversi tipi con alcune peculiarità nel funzionamento ma tendenzialmente le basi rimangono sempre le stesse. Cosa vedremo oggi? Oggi partiamo dalla teoria come al solito per poi andare a un livello più pratico con tutorial concreti dell'utilizzo dei principali DEX. Perdonatemi in anticipo se non li vedremo tutti, ma perché ce ne sono veramente una quantità industriale, ma ci limiteremo a quali più utilizzati per ogni chain. Cercherò di sottolineare e di soffermarmi soprattutto sulle particolarità che rendono uno diverso dall'altro, in modo che se anche ne utilizzate uno che non abbiamo visto oggi sapete alla perfezione come si usa perché, ripeto, la meccanica è sempre quella. La teoria di partenza ovviamente è che cos'è un DEX e che cosa sa, che cosa serve, come funziona, insomma tutto ciò che c'è da sapere al contorno per quanto riguarda la comprensione dei DEX, inclusi ovviamente i rischi, perché con la DeFi mi voglio soffermare molto sui rischi che spesso vengono sottovalutati ed è male. Poi rispondiamo alcune domande che mi avete posto, sapete che durante la settimana io vi faccio dei piccoli sondaggi sui vari social a cui vi incentivo a partecipare, mi raccomando, perché vi chiedo spesso che cosa vorreste sentire nella puntata successiva. Sapete, mi piace costruirlo con voi questo corso perché è per voi di fatto e quindi alcune domande sono state come si fa a passare da euro a un DEX e quindi rispondiamo a questa domanda e anche all'altra che mi avete fatto, ovvero io ho Bitcoin sul Ledger, come faccio da lì ad arrivare a un DEX che spesso, anzi sempre, non è su blockchain Bitcoin e quindi lo vediamo. Poi vediamo, come vi dicevo, le diverse tipologie di DEX, ripeto, la meccanica sotto, come vedrete è la medesima, ma poi ci sono alcune rifiniture e poi completiamo la puntata di oggi con l'elenco e il tutorial pratico dei principali DEX. Andiamo a vedere quelli più utilizzati, quelli che conviene utilizzare e come si usano. Partiamo dalla nostra amata teoria, ovvero che cos'è un DEX. Ve l'ho detto già pochi secondi fa, è un exchange decentralizzato che permette quindi lo scambio tra coin, ovvero io voglio scambiare Ethereum con USDC senza un intermediario. Tuttavia non c'è ancora l'esperienza ottimale che c'è su un exchange centralizzato, per quale motivo? Perché i DEX al momento sono circoscritti o meglio quasi tutti, si sta iniziando a uscire da questo limite ma per adesso non ci siamo ancora, siamo ancora circoscritti a una singola chain. Quindi abbiamo uniswap su Ethereum, PancakeSwap su BSC, abbiamo VVS Finance su Kronos, abbiamo Curve su varie chain ma uno su Ethereum che lavora solo lì, uno su Polygon che lavora solo lì. Ecco, c'è questa limitazione, quindi se uno vuole cambiare ad esempio, che ne so, ETH con SOL, che è su una chain differente, o passa per un bridge, cioè cambia con la versione wrappata, poi passa per un bridge e va a finire sull'altra chain, oppure purtroppo non è ancora possibile. Questo ripeto è un limite che si sta cercando di superare perché il mondo cross chain sta evolvendo a una velocità pazzesca e chissà che da qui alla fine di questo corso non faremo proprio una puntata su quello che avremmo già superato questo limite, queste barriere. Però per adesso è così, insomma, ogni DEX lavora su una chain e permette lo scambio o il dare liquidità su quella chain. Ci sono due tipologie di DEX come struttura sottostante, come base, che sono l'Automatic Market Maker o AMM, modello Uniswap, modello Pancakeswap, che in sostanza funziona con i pool di liquidità, tra poco ovviamente vediamo nel dettaglio cosa vuol dire, e poi c'è quello Order Book Based, ovvero funziona come un checks, permette di mettere limit order sull'order book e permette agli altri di fare market order, quindi c'è il Market Maker e il Market Taker, esattamente come funziona Binance, uguale, identico, con i vostri limit order che vanno a dare liquidità e i market order che vanno a utilizzare la liquidità. Queste sono le due differenze di base, chiaramente un Order Book Based non può essere utilizzato su una chain lenta perché richiede la possibilità di fare tantissime operazioni al secondo e soprattutto di non pagarle molto perché altrimenti diventa un po' un problemino, mettere e togliere il limit order se ci costa le fidi Ethereum è un problema. Prima di andare nel dettaglio con ognuna delle due tipologie di DEX che abbiamo visto adesso, cerchiamo di soffermarci sui rischi. I rischi non vanno mai sottovalutati quindi ho voluto dargli un ruolo importante mettendoli proprio all'inizio della presentazione. Il primo rischio, o meglio i primi rischi, sono ereditati dalla macro categoria DeFi, ovvero sono proprio i rischi tipici della DeFi. Rischio di bug, rischio di exploit dello smart contract cosa vuol dire? Vuol dire che se gli smart contract della DAP, del nostro DEX sono scritti male, hanno dei bug, hanno delle potenziali falle che si possono utilizzare per attaccarli, prosciugare la liquidità, fare danni agli utenti, c'è questo rischio insomma, potrebbe succedere. Quindi come si fa a assicurarsi che ciò non accada? La risposta brutta purtroppo è che non è possibile. Si può andare a ridurre i rischi affidandosi a piattaforme, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, che hanno degli audit fatti, oppure che sono molto longeve, che hanno dei team noti per la loro professionalità e capacità e che hanno liquidità molto elevata. In questi casi diciamo che si riduce drasticamente il rischio di hack, il rischio di trovare dei bug, perché non è stato già trovato. Quindi se su una piattaforma ci sono diversi miliardi di liquidità e ci fosse un bug, credo che qualcuno avrebbe già cercato di sfruttarlo. Quindi vuol dire che non è ancora stato trovato, il che ne riduce drasticamente la possibilità di trovarlo. Poi c'è da dire che il mondo dei DEX ormai è talmente esplorato, non è più una novità, che trovare dei bug diventa sempre più difficile, proprio perché insomma nel passato con le prime sperimentazioni sono già stati fatti, trovati e bucati i primi bug, poi le piattaforme hanno imparato dei loro errori e col tempo fortunatamente sono migliorate. Il secondo grande rischio è legato agli amministratori eventuali della piattaforma. Magari il DEX non è così DEX, è centralizzato perché ci sono ancora degli amministratori che hanno in mano le cosiddette admin keys, che sono chiavi private, che permettono di modificare a loro piacimento alcuni parametri del protocollo, quindi di gestirlo. E se il team è malevolo può sfruttare questa possibilità per fare i cosiddetti ragpull, ovvero per andare a svuotare la liquidità all'interno del loro DEX lasciando gli utenti finali in braghe di tela, cosa che non vogliamo ci capiti. Un altro quindi in sostanza qua c'è da accertarsi che se possibile non ci sia centralizzazione, quindi l'amministrazione del DEX si è affidata innanzitutto a uno smart contract col cosiddetto time lock, che vuol dire che se viene fatta una modifica, la modifica è visibile, è proposta, ma ha effetto dopo ad esempio due giorni, così dà tempo agli utenti se non gli piace quella modifica di uscire. Il che vuol dire, esempio, se vogliono fare un rag pull e dicono che possono a loro piacere andare a prelevare i token LP, una cosa a caso, quindi a svuotare completamente la liquidità, a effetto dopo 48 ore io lo vedo e dico col cavolo e me ne vado immediatamente. Se non ci fosse il time lock lo potrebbero fare subito e rag pullare tutti quanti. Inoltre è importante sapere che il team che c'è dietro, spesso ci sono team anonimi, però diciamo sono pseudonimi, sono personaggi spesso conosciuti su Discord o Twitter, che almeno anche se anonimi siano di buona reputazione, cioè magari hanno già fatto altre piattaforme, sono conosciuti nel mondo DeFi e ci si può fidare. Un problema invece legato specificamente al DEX, quindi non alla DeFi in generale, quanto abbiamo detto finora è legato, sono rischi di tutta la DeFi. Per quanto riguarda i DEX un rischio molto specifico è la scarsa liquidità. Questo impatta soprattutto il trader. Se io voglio andare a fare uno scambio di una coin per un'altra e nel pool sul quale scambio c'è poca liquidità, io mi trovo un tasso di scambio di cambio sfavorevolissimo, ovvero rischio, mettiamo che Ethereum, un Ethereum costa 4.000 dollari, supponiamo. Io vado in un pool dove nel pool ci sono 3.000 dollari in totale, ovvero neanche mezzo Ethereum e neanche 2.000 dollari e quello che succede è che se io vado a fare uno scambio di 0,2 Ether, già vado a sbilanciare molto la sua liquidità e li vado a pagare più del doppio del prezzo reale di mercato. Quindi fate sempre massima attenzione, lo riprendiamo anche tra poco questo discorso, alla liquidità all'interno del pool sul quale andate a scambiare. Non fate mai, mai e poi mai scambi su pool con poca liquidità, altrimenti vi beccate un tasso di cambio clamorosamente sfavorevole che vi danneggia. Questo è un po' la panoramica dei rischi, se ve ne vengono in mente altri mi raccomando scriveteli nei commenti che mi fa piacere avere vostre integrazioni. Ora andiamo più nel dettaglio del funzionamento delle due tipologie di DEX che abbiamo visto prima, Orderbook e AMM. Orderbook, ve l'ho detto, è modello checks, quindi prendete Binance, è esattamente uguale, è un modello decisamente migliore, come user experience e come efficienza rispetto all'AMM, ma serve una blockchain ad alta performance, perché per avere un Orderbook efficiente non è che devo poterlo modificare ogni 20 secondi e mi deve costare 5 dollari, deve essere a costo zero e deve essere praticamente continua la possibilità di modifica. Da una parte ci sono i market maker che equivalgono ai liquidity provider, ovvero io vado a dare liquidità all'Orderbook, dall'altra parte ci sono i trader che vanno a fare lo scambio, quindi l'Orderbook andrà a decidere il prezzo di mercato e chi va a fare il trade può comprare o vendere al miglior prezzo disponibile. E l'incentivo dov'è? Beh, per il market maker ci sarà il rebate sulla fee, ho sbagliato, l'ho scritto sul market taker, in realtà era sul maker, avete presente gli exchange anche ad esempio Bybit lo fa, dove c'è il limit order con la fee negativa, quello è un po' come dire ricompensiamo i liquidity provider, perché di fatto tu vai a riempirmi l'Orderbook, mi rendi più liquido ed efficiente il mio mercato e io ti ricompenso. Quindi spesso c'è il rebate sulla fee e poi gli incentivi chiaramente dati da, che ne so, token eventuali. Ad esempio mi viene in mente di YDX che aveva, cioè fa dei round di ricompensa per i market maker ma anche per i market taker, quindi semplicemente per chi utilizza la sua piattaforma ci sono dei liquidity mining effettivi con il loro token. Il market taker dall'altra parte è colui che compra o vende a mercato, quindi utilizzando la liquidità sull'Orderbook, paga la fee di solito ed eventualmente avrà gli incentivi anche lui di liquidity mining. Quindi modello checks, poco da aggiungere a come fare trading su Binance. Un esempio di Dex di questo tipo è Serum su Solana, che poi ha delle diverse UI, che insomma Serum è l'Orderbook centralizzato. Ci sono diverse UI, quindi interfacce grafiche, come può essere Bonfida, come può essere Radium, che ti permettono di utilizzare un exchange veramente così, con l'Orderbook. Non so se avete mai provato, ma è una bella esperienza, ma ripeto, poche blockchain possono permettersi di fare ciò. E bene, poi l'altro modello invece, quello più classico, su cui ci soffermeremo per ovvi motivi di più, è il modello AMM, Automatic Market Maker. Come funziona? Allora, io prendo qua l'esempio più comune, ovvero dei pool 50-50. Un pool 50-50 vuol dire che è composto per metà controvalori in dollari, attenzione, per metà dal token A e per metà dal token B e il rapporto del numero di token A e B fa il suo prezzo. Quindi, ad esempio, se vogliamo fare un pool Ether DAI e supponendo che un Ether valga 4000 DAI, di nuovo partiamo da questa ipotesi, avremo un pool composto da, esempio, 100 Ether 400.000 DAI, 50 e 50. 100 Ether valgono 400.000 DAI, 400.000 DAI valgono 400.000 DAI. Questo è il funzionamento. Se cambia il prezzo di Ether, si ribilancerà il pool perché ci saranno trader che verranno a fare arbitraggio con le piattaforme esterne e otterranno un profitto da questo. Quindi questo è il funzionamento dell'AMM. Poi abbiamo la impermanent loss di cui abbiamo parlato l'ultima volta, quindi non mi soffermo più di tanto, che è data proprio dal profitto che viene un po' strappato, tra virgolette, da questi arbitragisti che sfruttano la differenza di prezzo tra il CEX e il DEX, che è ancora un pelino meno efficace. Quello che riescono a estirpare è proprio quello che fa la impermanent loss. Ne abbiamo parlato l'ultima volta, quindi oggi non mi soffermo sulla IL più di tanto, ma sulla dinamica di come funziona lato liquidity provider e lato trader il nostro AMM. Allora, senza il liquidity provider l'AMM non sta in piedi, perché se non c'è liquidità il trader non viene a fare scambi, perché ve l'ho detto, se fate scambi su un pool poco liquido vi fate del male. Se i pool sono poco liquidi, i trader vanno su un altro DEX, vanno da un'altra parte. Il liquidity provider è fondamentale, quindi va incentivato e questi incentivi sono sotto forma del liquidity mining che abbiamo visto, il farming, i token distribuiti, sono assolutamente la base per l'efficienza di un AMM. Il liquidity provider quindi viene e dà la sua liquidità al pool. Esempio, io voglio dare liquidità per 8.000 dollari, devo dare, perché siamo sempre sul 50 e 50, un ETH e 4.000 DAI. Perché lo faccio? Perché da un lato ricevo le commissioni pagate dai trader e dall'altro ricevo il mio liquidity mining, come vedremo tra poco. Quindi, lato liquidity provider, io vado a dare un ETH e 4.000 DAI. All'interno di un pool che possiede 100 ETH e 400.000 DAI. Quindi cosa succede? Io ricevo, quando vado a fare l'operazione di dare liquidità, ricevo i token LP. I token LP sono una sorta di certificato che mi dice, guarda, tu hai questa quota del pool totale. Ad esempio, se io vado a dare un ETH e 4.000 DAI a un pool 100-400K, riceverò un centesimo della supply del token LP ETH DAI LP. Sushi ETH DAI LP, uni ETH DAI LP, si chiamano più o meno così. Perché un centesimo della supply? Perché io ho l'1% della quota del pool. Cioè, il mio un ETH 4.000 DAI equivale a un centesimo dell'intero pool. E quindi riceverò un centesimo della supply. Quando vado a dare liquidità, viene mintato, viene creato dal nulla, token LP in quantità tale per cui io ne avrò un centesimo della supply totale. In questo modo si può sempre calcolare ogni address, ogni liquidity provider, che quota ha. Poi se io prendo il token LP e lo sposto, lo do a qualcun altro, sono cavoli miei perché io poi non posso più riscattare la liquidità. Chi possiede quel token LP ha diritto di riscatto dell'1% della liquidità di quella quota della liquidità del pool. Questo è il primo step fondamentale da capire. La dinamica da dare liquidità a ricevere il token LP. Questa è un'operazione completamente automatica che avviene ogni qualvolta qualcuno dà liquidità. Dall'altra parte noi abbiamo il nostro trader che vuole scambiare ETH con DAI o viceversa e che cosa fa? Lui dà un ETH e riceve 4.000 DAI meno la FII meno lo slippage. Che cosa sono questi parametri? Allora la FII è un parametro fisso deciso dal protocollo. Esempio, che ne so, su Uniswap è lo 0,3%, su Uniswap v3 si può scegliere, dipende dai pool. Ecco, è un parametro che viene deciso, ok? Tu lo trovi, guardi la documentazione, lo vedi, comunque c'è scritto anche mentre fai lo swap e tu guardi, fai e dici 0,3% di commissione. Ok, se fai lo swap lo accetti e quella te la paghi. Lo slippage dipende dalla liquidità. O meglio, se noi abbiamo una situazione in cui nel pool c'è poca liquidità, se un pool 100 ETH, 400.000 DAI, io vado a fare un trade da mezzo milione, succede un disastro, perché succede che avrò un prezzo completamente falsato. Se io vado a comprare 90 ETH in questo pool, che ne ha 100 al suo interno, li pagherò uno sproposito, perché il prezzo viene fatto dal rapporto tra la quantità delle due coin. Quindi se io porto via 90 ETH, lo alzo tantissimo il prezzo e lo alzo un po' alla volta. Quindi quel innalzamento del prezzo rispetto al prezzo reale è lo slippage. Quindi mi raccomando fate attenzione allo slippage perché più è alto e più vi danneggia. Quindi bisogna limitarlo. Per limitarlo, come si fa nelle impostazioni del DEX? Quando si fa lo scambio c'è il tetto massimo di slippage che se vede il DEX che è più alto ci blocca la transazione e comunque noi con un po' di testa possiamo bloccarlo a priori senza neanche fare la transazione, ovvero se vediamo un pool poco liquido e andiamo a fare uno scambio enorme, magari non è il caso. Questo è importante da capire. Poi andiamo avanti e cerchiamo di fare uno step in più. Ovvero io, liquidity provider, quindi ho il mio un centesimo di supply ETH DAI LP perché ho dato la mia liquidità, ho dato un ETH e 4000 DAI. Possiedo l'1% del pool certificato da questo token LP. Arrivano i trader che scambiano, scambiano ETH con DAI, DAI con ETH, DAI con ETH, ETH con DAI e così via. Fanno n scambi, pagano n volte le fee. Queste fee vanno all'interno del pool, ok? È importante da capire questo. Le fee dei trader non vengono in tasca a me direttamente, vanno a finire nel pool, vanno a far crescere le dimensioni del pool. Ogni trader paga lo 0,3%, quello 0,3% va a finire nel pool, un po' in ETH, un po' in DAI. L'altro trader paga ancora lo 0,3%, va a finire nel pool, tutti dentro al pool, un po' in ETH, un po' in DAI, 50 e 50. Quindi che cosa accade? Accade questo. Accade che una volta che io vado a rimuovere la liquidità, all'interno del pool io avrò non più 100 ETH e 400.000 DAI. Io qui faccio una supposizione che il prezzo non è variato, per semplicità, che altrimenti ci sarebbe la impermanent loss, tutta una serie di cose noiose che per semplicità trascuriamo. Noi interessa capire la dinamica del DEX e l'impermanent loss l'abbiamo già vista e ci andrebbe a complicare solo le cose. Quindi noi non abbiamo più 100 ETH e 400.000 DAI, ma abbiamo 100 ETH più le FI e 400.000 DAI più le FI. Quindi il pool è più grande, ok? A parità di prezzo, perché se il prezzo fosse cambiato noi avremmo magari un po' meno ETH e un po' più DAI, se il prezzo fosse aumentato, più ETH e meno DAI, se il prezzo di ETH fosse diminuito e poi a tutto si va a sottrarre la impermanent loss. Al contrario, in questo caso semplice, noi abbiamo pool uguale all'inizio più le FI che si sono accumulate. Quindi nel momento in cui io, che ho sempre il mio un centesimo e supponiamo anche che nessun altro ha aggiunto liquidità, ok? Perché altrimenti si sarebbe diluito la mia quota del pool. Cioè io avrei sempre un ETH e 4.000 DAI, ma se anziché 100 ETH e 400.000 fossero diventati 200 ETH e 800.000, io non avrei più l'1% del pool ma lo 0,5. Vabbè, non cambia nulla di fatto, cambia solo la percentuale del pool che possiedo. Non importa quindi al fine dei nostri calcoli perché io vi volevo solo mostrare che quando vado a rimuovere la liquidità, io prendo il mio token LP e lo brucio, cioè vado a fare, firmo la transazione e rimuovi liquidità. Io brucio il token LP e in cambio recupero una quantità di liquidità pari al rapporto tra la quantità di token LP che ho bruciato e la supply totale di quei token LP. Nel mio caso l'1%. Quindi cosa ritiro? Ritiro un ETH, 4.000 DAI e l'1% delle FI generate nel frattempo. Mi sembra abbastanza chiaro, ok? C'è uno step in più da fare perché non so se avete notato ma ho trascurato una cosa, ovvero il liquidity mining. Cioè qui stiamo parlando solo delle FI. Bene, ma ad esempio le reward in CAKE, le reward in WWS, le reward nei vari token, sushi, quello che è, come funzionano? Funzionano così. Allora, qua andiamo un po' più sul complicato ma è, insomma, è così che funziona. Poi alla fine facciamo un recap complessivo. Abbiamo il nostro pool al centro, i trader che scambiano e mettono le FI nel pool. Io nel frattempo ho il mio token LP perché ho dato liquidità. Cosa posso farci in più col token LP? Metterlo in staking. Io prendo il token LP, quindi ho dato liquidità, ho ricevuto il token LP, lo metto in staking. Nel momento in cui è in staking è il protocollo che mi dà la ricompensa in token. Quindi io ho il token LP in staking sul protocollo e sto accumulando ricompensa in token CAKE, in WWS, quello che è. Questa ricompensa prima o poi la devo riscattare, quindi vado a chiamare la funzione Harvest, come abbiamo visto nelle prime puntate, e questi token mi arrivano nel mio wallet e ci faccio quello che voglio. Quindi io avrò il mio token LP in staking, faccio Harvest, ricevo dei WWS e io ho il token LP e i WWS. Se voglio poi i WWS li converto in ETH e DAI, o meglio facciamo i CAKE in ETH e DAI e vado a dare altra liquidità e avrò una quantità maggiore di token LP e rimetterò in staking anche quei token LP. Questo è l'auto compounding, ok? È il compounding o meglio, auto se lo facciamo fare a qualcun'altro. In sostanza la differenza qua è che qua ho messo in staking i token LP, che è la cosa in più che mi permette di ottenere le ricompensi in token laddove c'è liquidity mining. Ricapitolando, cosa succede in un AMM? Allora, lato trader abbiamo capito, faccio lo scambio, pago la fee, slippage, eccetera. Quindi non c'è tanto da dire in più. Lato liquidity provider, io do liquidità al pool, ottengo il token LP e mentre ho il token LP, cioè chi ha il token LP di fatto guadagna la percentuale delle trading fee, è il titolare di quella liquidità. La liquidità cresce e quindi io nel momento in cui la riscatto col token LP ne avrò un po' di più. È sotto forma di liquidità e sono le trading fee che ho guadagnato. Il token LP lo posso mettere in staking e quindi oltre alle trading fee inizio ad accumulare le reward di farming, liquidity mining reward. E questi sono i due livelli che si può ottenere con la rendita su un DEX. E il trader? Allora, il trader l'abbiamo capito. Il trader paga le fee, ha lo slippage, ve le ho già dette un po' queste cose in verità. Dipende dalla liquidità, ma di fare un trade su pool a scarsa liquidità, questa ve la lascio in più come slide proprio come riferimento, ma sono cose che abbiamo già detto. C'è un ultimo punto importante che è quello del routing, ovvero se io voglio fare un trade non ETH DAI, supponiamo, ma ETH VBTC ed esistono solo i pool ETH DAI e DAI VBTC, allora cosa succede? Io avrò, farò quell'operazione che si chiama routing, ovvero il DEX che sa questa cosa mi instrada il mio trade attraverso i due pool. Quindi farò ETH DAI un trade e DAI VBTC un trade. Io nell'interfaccia grafica vedo un trade solo, però attenzione perché pago le commissioni a due pool e quindi bisogna sapere che sto pagando più commissioni e c'è un rischio di maggiore slippage se uno dei due pool che utilizzo è poco liquido. Quindi mi raccomando se fate dei trade con dei token esotici soprattutto, perché finché si parla di ETH, VBTC, DAI, stablecoin, ci sono praticamente i pool con tutto, quindi non è un problema. Se si fanno trade con coin esotiche come, non lo so, qualche token appena nato eccetera, c'è il rischio che non ci sia il pool direttamente con USDC ad esempio, ma magari passo attraverso vari pool e soffro uno slippage e fee maggiori. Poi veniamo alle nostre FAQ, ovvero DAEURO ADEX o DABTC ADEX. È l'ultima sì, poi andiamo a vedere gli esempi pratici. Allora, DAEURO ADEX, come funziona? Vado a fare il mio bonifico, scambio gli EURI con BTC o ETH, prelevo al mio wallet, se mi va bene così, se sono già arrivato. Se io voglio andare a finire su Kronos, cosa faccio? Allora, vado a bonificare, scambio con BTC, prelevo i BTC su Binance, li cambio in CRO, prelevo CRO sulla Chain Kronos, oppure non su Binance ma su Crypto.com, prelevo sulla Chain Kronos, cambio i CRO con quello che voglio e vado a fare le operazioni di liquidity provision, quindi vado a dare liquidità sul DEX in questione. Lo stesso su Polygon. Prelevo Bitcoin su Binance, cambio Bitcoin per Matic, prelevo Matic sulla Chain Polygon, con QuickSwap li cambio nella coin che voglio e alla fine vado a fare quello che devo fare. È così, no? Funziona così su tutte le Chain, su Avalanche, su Phantom. Io vado a finire nella coin nativa di quella Chain, la prelevo e poi sui DEX della Chain in questione vado a fare le operazioni. Purtroppo se si parla di Ethereum ci sono delle fee più alte e quindi bisogna metterle in conto, bisogna usare delle Chain che ci si può permettere di usare. Una volta che sono arrivato posso, esatto, scambiare con la Coin della Chain di interesse oppure brigiare e mandare sulla Chain di interesse o prelevare direttamente lì. Ad esempio, se voglio Ethereum, io scambio con Ethereum e prelevo direttamente Ethereum. Mentre se si parla di BTC, se io ho dei BTC non voglio passare da un checks, cioè posso fare ovviamente la stessa cosa. Quindi BTC lo vado a mandare su Binance, lo cambio nella Coin di interesse e la prelevo sulla Chain. Altrimenti posso usare REN direttamente. Quindi BTC avrò REN BTC e lo porto sulla Chain di interesse che può essere Polygon, può essere Solana, insomma ci sono tutte le Chain principali e quindi posso fare questa operazione. Quindi questo è un po' il punto di partenza. Adesso tenetevi forte perché andiamo a vedere un po' un tutorial pratico di come si fa tutto ciò. Siamo pieni di teoria ma nella pratica andiamolo a vedere. Partiamo da PancakeSwap e da tutti quei modelli Automatic Market Maker 50-50. Quindi sto parlando di PancakeSwap, Uniswap V2, WWS Finance, QuickSwap, SushiSwap, insomma tutti quei DEX che sono la stragrande maggioranza dei DEX esistenti che esistono sulle varie Chain. Il funzionamento, ve l'ho detto, è identico. E come funzionano? Allora, se noi vogliamo fare il Trade, vabbè vado su Trade, Exchange e scambio una Coin con un'altra. Posso scambiare le Coin che ho con le varie altre Coin, insomma è semplice, è veramente semplice. Tra l'altro molti DEX mi vanno anche a vedere, a caricare il grafico quando vado a selezionare la coppia. Attenzione perché se io vado a inserire un token esotico, non so qua se ce n'è qualcuno, probabilmente no, comunque se vediamo PancakeSwap Extended, torniamo indietro, qua me ne caricherà una quantità industriale, vediamo se ce n'è qualcuno particolarmente esotico, vediamo BDIG, secondo me non c'è molta liquidità, vedete che il prezzo è pressoché costante e volevo vedere se mi qualche alert, ecco vedete Price Impact, se io vado a fare un Trade un po' grande rischia di impattarmi parecchio sul prezzo, 3,37% in questo caso, quindi vuol dire che io andrò a pagare un sovrapprezzo del 3,37% e se aumento, vedete l'ammontare del Trade, aumenta l'impatto sul prezzo, questo perché nel Pool c'è poca liquidità e quindi è fondamentale capire questa cosa, me ne accorgo perché se faccio il Trade vedo un Price Impact alto, che poi è lo slippage, vedete me lo dice, la differenza tra il Market Price e il prezzo stimato a causa del Size del Trade, della dimensione del Trade. Qui mi fa anche vedere il Routing, ok? Qui sto utilizzando 1 e 2 Pool, passo da BNB a BTC e da BTC a BDIG, ok? Quindi faccio due Trade, pago due volte le fee. Questo Trade abbiamo capito che se lo faccio sono un folle, quindi attenzione. Come posso fare a capire anche la liquidità che c'è? Se io vado nelle Info e vado a controllare i Pool, posso andare a cercarmi il Pool BDIG, ad esempio, vediamo se ce lo trova, no, SHIBDIG direi di no, era BDIG, no? Se BDIG, BNB, no, era BTCB, BDIG, vediamo, ce la faccio. Magari non lo vede perché non è nella lista di default. Pools, vediamo, vediamo se ce li trova. Comunque mi aspetto dei Pool a bassissima liquidità e me ne posso accorgere guardandolo qui. Vediamo, 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 see more. Probabilmente sono ordinati proprio per liquidità. Ce n'è talmente poca, non lo so, manco, manco c'è, siamo a posto. No, comunque mi aspettavo di trovarlo qua il Pool BDIG, ma in realtà non lo trovo neanche. È talmente poca la liquidità che manco me lo trovo. Magari ha un nome diverso, dovrei incollare l'address del token, eccetera. Comunque me ne accorgerei perché se io qui vado a vedere i Pool, vedo quanta liquidità c'è e se la liquidità è molto bassa, rispetto soprattutto all'ammontare del trade che voglio fare, mi conviene evitare. Pena il pagare uno slippage folle. Poi qui mi fa vedere anche il routing, da qui dalle impostazioni vedete io posso andare a settare la tolleranza allo slippage. Quindi conviene chiaramente tenerla a una via di mezzo. Certo è che se poi utilizzo un Pool con una liquidità non troppo alta ed è l'unico modo che ho per andare a fare quel trade, mi rischia di fallire il trade. Quindi attenzione a sapere quello che si sta facendo. Se faccio un trade in un Pool liquido va bene tenerla a 0,5 tanto non ci arriva neanche probabilmente. Se vado a fare un trade in un Pool poco liquido e so che lo sto facendo, la devo per forza di cose alzare. È tipico per le varie shitcoin di solito farvi alzare lo slippage proprio per quello perché ci sono le loro robe folli tipo i burn, le tasse sulle transazioni, sugli scambi e così via. Ma lì vabbè andiamo off topic. Poi al contrario lato liquidity provider io cosa vado a fare? La prima cosa che faccio è andare a dare liquidità. Quindi io vado a fare trade liquidity o magari su uniswap si chiama in un altro modo ma c'è sempre il menu liquidity e vado a fare add liquidity qua sotto, seleziono le due coin per cui voglio andare a dare liquidità tipo cake bnb e come vedete devo fare 50 e 50. Non ho molta scelta cioè andare a dare liquidità in cake e in bnb metà per uno. Quindi io adesso devo fare due transazioni. La prima la transazione di approval, di approvazione, che permette allo smart contract del DEX di spendere i miei cake. L'avevamo visto l'altra volta cosa vuol dire? Cioè il fatto che un token è governato da uno smart contract. Quindi tu devi dare a quello smart contract il permesso di spendere i tuoi token che possiedi all'interno del wallet. Una volta che l'hai fatto puoi dare la liquidità e in cambio vedi ricevi questa quantità di token LP. Confermo, diamo la liquidità, confermiamo sul nostro metamask e una volta che abbiamo dato la liquidità ci processa la transazione e noi riceveremo il nostro token LP. Con il nostro token LP vedete iniziamo a guadagnare lo 0,17% su tutti i trade che vengono fatti perché quella fee viene messa all'interno del pool. Vi ricordate questo discorso qui che abbiamo fatto? Eccolo, i trader fanno il trade, danno la fee all'interno del pool e io con il mio token LP poi vado a riscattarla. Quindi io andrò a riscattare queste fee nel momento in cui, vedete, io vado a rimuovere la liquidità. Se la rimuovo adesso non avrò guadagnato praticamente nulla. Se aspetto io avrò guadagnato qualcosa perché comunque iniziano ad accumularsi le fee. Ho una percentuale bassissima del pool quindi chiaramente i guadagni sono in percentuale. Se io voglio andare anche a fare liquidity mining, quindi a guadagnare i CAKE su questa coppia, perché io so che si può fermare. Se io vado su farms vedo CAKE BNB con un APR del 43%. Io lo voglio. Come faccio? Io ho dato liquidità. Finora non lo sto guadagnando questo APR. Per guadagnarlo devo mettere in STAKE i miei token LP. Vedete i CAKE BNB. Faccio STAKE LP. Questo è il mio bilancio dei token LP di CAKE. Li metto tutti quanti in STAKE. Confermo. Confermo di nuovo la transazione e una volta che l'ho fatto questa è l'ultima cosa che devo fare. Perché avrò fatto tutti questi passaggi, ovvero ho preso l'LP e guadagno le fee. Lo metto in STAKING e guadagno le token REWARD sotto forma di CAKE. Adesso mi sta confermando ancora la transazione. Volevo farvi vedere quello che è l'ultimo dei passaggi per quando voglio andare a riscattare la mia ricompensa. Eventualmente dopo un po' di tempo che mi si va ad accumulare in tempo reale. Bene, vedete che qua inizia ad accumularsi i CAKE. Adesso sono a zero e rimarrò a zero per un po' perché ho veramente poca liquidità. Ma una volta che si vanno ad accumulare io posso fare HARVEST. Quando faccio HARVEST mi troverò dei CAKE sul mio wallet. E quindi o li riconverto metà e metà in CAKE e BNB e vado ad aggiungere liquidità o altri token LP, rimetto in STAK altri token LP o altrimenti li lascio accumulare, faccio un HARVEST finale e basta. I passaggi opposti sono gli stessi. Ovvero tiro via i token LP dallo staking, li riottengo, ritorno su Trade Liquidity, vado, qui non la vedo più perché adesso sono in staking, attenzione, se li faccio, faccio l'unstake li rivedo, rimuovo la liquidità e mi ritrovo con metà BNB e metà CAKE. Questo è il funzionamento del tipico DEX. Andiamo ora a vedere anche una panoramica degli altri principali DEX, così da rendervi conto come il funzionamento magari con qualche virgola diversa, ma sia bene o male analogo. Allora partiamo con WWS Finance. Vedete che anche qui abbiamo la medesima interfaccia. Dobbiamo collegare il nostro Metamask chiaramente alla chain Kronos e non più alla BSC come prima. Poi posso andare a fare il mio Trade Swap. Vedete che scelgo la coin di partenza e la coin di arrivo. Vado a mettere la quantità e lui mi dice gli stessi dati. Quindi il price impact, il minimo ricevuto, quindi che se succede che riceverai meno mi va ad annullare la transazione e quella che alla fine vado a pagare ai liquidity provider. Questa è esattamente la medesima interfaccia. Qui nelle impostazioni posso andare a settare la slippage tolerance e per il resto, ripeto, è identico. Liquidity, vado a dare liquidità, vado a scegliere i due token, metto la quantità, sarà sempre 50 e 50, poi vado sotto Earn Farms, vado a scegliere il pool a cui ho dato liquidità, metto in stake il token LP, sempre con la doppia transazione, approva e deposita, approva e stake, e poi vado a fare l'harvest dei WWS di tanto in tanto. È identico, completamente identico. Poi abbiamo gli stessi discorsi sullo slippage, sulla liquidità, eccetera, eccetera, eccetera. Quick Swap su Polygon. Chiaramente andiamo su Polygon a sto giro, quindi switchiamo a Polygon. Scambia. Abbiamo la possibilità di scambiare, tac, una coin con un'altra o addirittura dei Polydoge. Non so chi me li ha airdroppati, ma ho addirittura dei Polydoge, anzi, ne approfitto subito per swapparli in USDC, che non varranno assolutamente niente, quindi non li swappo neanche perché è più la fee che pago che altro. Però vedete che abbiamo il nostro Price Impact e la LP fee che andiamo a pagare, nonché il routing. Questo è il percorso che stiamo andando a fare. Il resto è identico. Approva, swap, tac. Si può fare anche dei limit order su Quick Swap, proprio perché Polygon è una blockchain a alta efficienza e permette quindi di andare a fare un, che ne so, un acquisto. Supponiamo Matic USDC. Io voglio andare a vendere un Matic. A che prezzo? Non a 2,5 ma a 4 dollari. Lo metto e vedi, sell Matic sopra il prezzo di mercato, place order, tac. E questo è possibile proprio perché comunque Polygon è una blockchain molto efficiente. Questo è il discorso order book based che facevamo prima. Mentre se voglio andare a dare liquidità, io vado a cliccare Riserva. Pessima traduzione, ma vabbè. Add Liquidity. Vado a scegliere la coppia. USDC Matic. Vado a dare 50,50 come sempre. Ottengo il token LP. Vado su Farms. LP Mining. Vado a scegliere il mio pool del caso una volta che me li carica. E vado a mettere in staking il mio token LP per andare a guadagnare la reward in token quick in questo caso. Ed è esattamente identico. Sì, identico, completamente identico. Scambia. Quindi io vado a fare il mio swap. Adesso sono su Polygon, ok? Da Matic a Dai. Vado a fare il mio scambio. Tac, vedete, mi fa vedere anche qui il tasso di cambio. Posso andare a impostare la tolleranza allo slippage, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto uguale. Limit order, proprio perché siamo su Polygon. Su Ethereum non lo potrete fare. Liquidità per andare a dare liquidità. Quindi Dai e Matic. Supponiamo. Bene, vado a dare liquidità al pool. Sempre 50,50. Ottengo il token LP. Vado su farm e nelle farm, adesso non so se su Polygon c'è qualche farm, probabilmente no, ma se ad esempio mi sposto su Ethereum, giusto per vederne qualche... Ah no, ci sono anche su Polygon, scherzavo. Eccole qua, le farm su Polygon, sì, mamma mia. Non sapevo che ci fossero queste farm. Tipo CRV e TH, vado a dare liquidità al pool, il token LP lo metto in staking qui dentro e tac, vado... Vedete qua, ecco, bello perché direttamente dalla sezione farm mi permette di aggiungere anche subito la liquidità. Quindi di fare tutto da un'unica parte. Quindi liquidità e poi staking del token LP, SLP si chiama in questo caso, Sushi LP. E una volta che ce l'ho in staking, ottengo le mie reward, poi vado a riscattare le reward da dove lo devo fare, eccetera, eccetera. Con Sushi, attenzione che c'è una parte delle reward bloccate, ma lì dipende dalla tokenomics, poi, dell'exchange stesso. Curve. Curve è quello un po' meno user-friendly, volendo, perché ha una grafica un po' che spacca in due, no? Nel senso, chi la odia, chi la ama, ma alla fine il funzionamento è sempre quello. Io vado a fare il mio swap, qua, vedete, pagina iniziale, scelgo cosa voglio swappare verso cosa. Vedete, RMBTC, USDC, not available, perché non ci sono pool che permettono di farlo. Mentre dai USDC, vedete, ci sono i pool di stablecoin, quindi ovviamente ogni DEX si appoggia ai suoi pool sulla sua chain. Mi raccomando, ricordatevi questa cosa. Vado a fare il mio scambio, mi fa vedere il price impact, in questo caso, il tasso di cambio, la fee che vado a pagare. Oh no, non me la fa neanche vedere la fee. La fee dovrebbe essere dello 0,04%. Not enough balance, perché io non ho abbastanza DAI. Se metto 0,09 me la fa vedere la fee, no, including fee, beh, comunque il tasso di cambio include già anche le fee, quindi me lo mostra lì. Mi dice attraverso che pool viene eseguito il trade, questi che vediamo sotto, e basta. Se voglio andare a dare liquidità, devo scegliere il pool, quindi faccio, mostra tutti i pool. Voglio dare liquidità nel pool di stablecoin, ad esempio, non lo so, nel pool, guardate questo che bello, un pool euro-dollaro. Quindi il pool A3CRV, che è il pool delle tre stablecoin, DAI, USDC, USDT, più euro. Bello per esporsi anche all'euro, con un buon 60 quasi per cento di ricompensa. Non male, non ditelo troppo in giro. Ci clicco sopra, vado a mettere qui deposit, non buy and sell, perché altrimenti faccio lo scambio. Scelgo che cosa depositare. Vedete, posso depositare anche una singola coin in questo caso, perché tanto sono tutte equivalenti. Però ricordatevi che anche se deposito una sola coin, quello che accade è che io sono esposto a tutto il pool. Quindi, se io vado ad esempio a depositare sul pool Tricrypto, che è, vedete, stable, BTC e TH, anche se io deposito solo stable, io sono esposto anche a BTC ed ETH, con queste proporzioni. Quindi, 33 stable, 33 BTC, 33 ETH, un terzo, un terzo, un terzo. Questo è importante da capire, perché uno dice, ah, ho depositato DAI, sono agnostico al prezzo di Bitcoin. Non è vero, non è affatto vero. Una volta che ho scelto cosa depositare, se io faccio solo deposit, ottengo il token LP. E quindi, se ad esempio sono su Ethereum e voglio usare Convex, e voglio mettere in staking il token LP su Convex e non su Curve, faccio solo deposit, ottengo il token LP e il token LP lo metto su Convex. Che esula dal discorso di oggi, era solo per dire. Se io invece voglio mettere in staking il token LP su Curve, perché ho visto che c'erano molte ricompense in CRV, su questo pool, faccio deposit and staking Gauge. E una volta fatto questo, io inizierò a ottenere le ricompense in CRV e, eventualmente, non solo, perché alcuni pool, vedete, hanno anche ricompense in altre coin, come in Vumatic, questo qui, questo pool di Aave. E basta, questo è quanto, nel momento in cui vado a prelevare la liquidità, lo faccio sempre da qui, faccio Withdraw, faccio Withdraw e una volta che prelevo, mi sblocca automaticamente anche le ricompense che ho ottenuto. Poi, in realtà, se io vado a vedere da qualche parte, c'è anche la dashboard, la mia dashboard, non mi ricordo esattamente dov'è, ma secondo me compare solo se si dà liquidità. Se si dà liquidità, ah no, my dashboard, eccola qua, scherzavo. My dashboard, vedete, ti fa vedere il tuo address e ti fa vedere i profitti che stai facendo, insomma, tutto quello che sta accadendo, la liquidità che hai, le ricompense a cui hai diritto, eccetera, eccetera, eccetera. Non che i V e CRV, se tu ce li hai, ma in realtà su Polygon non è possibile andare a loccare i CRV in V e CRV, si può fare su Ethereum, ma anche questo esula dal discorso di oggi, è per il discorso del potere di voto. Quindi, questo è il funzionamento, tant'è che, vedete qui, non ci sono ricompense variabili in CRV, ma sono fisse, perché proprio non c'è il discorso dei V e CRV. Comunque, questo è per quanto riguarda Curve, che è simile ma diverso, quindi ho speso due paroline in più. Balancer è un DEX che ha la particolarità di avere anche dei pool, switchiamo Ethereum, che si vede meglio, perché aggiungi sushi, switch Ethereum, tac. Volevo farvi vedere che su Balancer c'è la particolarità che ci sono pool a percentuali variabili e anche multi asset, quindi non vale sempre il 50 e 50. Come funziona? Uguale comunque, cioè se io vado a fare lo scambio, scambio la coin A con la coin B, Ethereum DAI, voglio scambiare un Ethereum, tac, vedete, mi fa la conversione. Qui, vabbè, lasciamo perdere, questo è un discorso un po' avanzato. Qui posso scegliere la slippage tolerance, posso scegliere il tipo di transazione, ci sono un po' di dati tecnici, e scegliere se usare le pool della versione 1 a versione 2 di Balancer. Best è sempre la scelta migliore. Faccio lo scambio e lo scambio è fatto. Per andare a dare liquidità, invece, vado su Invest, vado a scegliere il pool, ad esempio Bal e TH. Vedete che c'è l'APR del liquidity mining e qua devo solo fare Invest. Quindi io vado a dare 1 e TH e molti più Bal, proprio perché è 80-20 in questo caso. Vado a dare entrambi, cioè in realtà posso anche darne uno solo, però mi espongo sempre a tutte e due le parti del pool perché mi viene fatto lo scambio. Infatti, vedete che mi propone questa quantità di Bal. Vado a fare Preview, in questo caso io do solo 1 e TH, mi fa vedere il price impact perché comunque io vado a fare anche uno scambio, no? ETH Bal. Una volta che faccio Invest avrò il mio token LP che stavolta automaticamente accumula ricompensa. Poi vado a cliccare qui e faccio il claim delle ricompense in Bal, che sono queste. Le fee invece vengono accumulate nella liquidità. Andiamo avanti. Uniswap. Uniswap V2 è identico a PancakeSwap e agli altri. Uniswap V3 è leggermente diverso. Lato scambio non cambia nulla. Io vado a cambiare ETH con quello che voglio, 1 inch, mi fa vedere il prezzo, mi fa scegliere lo slippage, mi fa vedere il costo del gas qua sotto. Insomma, mi fa vedere veramente tutto. E se io voglio invece dare liquidità cambia qualcosina perché vedete su Uniswap V3 la differenza è che io vado a dare liquidità a un pool, esempio Ethereum DAI, io posso scegliere la commissione perché ci sono pool con coin diverse e commissioni diverse. Qua è un po' più complicato perché si può scegliere di creare un pool con una fee bassa o alta. Vedete, le coppie molto stabili suggerisce una fee bassa, le coppie più esotiche suggerisce una fee più alta. In questo caso io devo decidere a che pool dare perché ogni fee è un pool diverso. In questo caso 0,01 non esiste, 1% non esiste, quasi c'è il pool più grande è dello 0,03 e poi c'è un pool più piccolo dello 0,05. Io quanto voglio andare a dare? Dipende perché se io voglio dare ad esempio un ETH e un po' di DAI, devo scegliere anche l'intervallo di prezzo in cui distribuire la liquidità. Perché Uniswap V3, magari ne parliamo in un video dedicato se vi interessa, va a concentrare la liquidità in un range di prezzo. Il che vuol dire che se il prezzo si muove qui dentro la mia liquidità viene gestita, ma se il prezzo si sposta oltre o sotto il limite che ho messo, io non agirò più come liquidità, sarò tutto bilanciato da una parte o dall'altra, perché vedete che tra l'altro la differenza, guardate, sposto, cambia la percentuale. Se io vado a ampliare il range da meno 100 a 100 è 50 e 50, esattamente come Uniswap V2, cioè meno 100 e più 100 dovrebbe essere. Mentre se io vado a fare delle operazioni del tipo, no scusate, meno 100 e più 50 è come Uniswap V2 mi pare. No, non è vero. Non lo so, devo ragionarci, perché se io in teoria vado a spalmare su tutta la curva la liquidità, quindi da meno infinito a più infinito, diciamo, dovrebbe essere come Uniswap V2, ovvero che appunto ha spalmato su tutta la curva di prezzo. Se invece contengo la liquidità su una specifica area, allora le cose cambiano e vado a dare liquidità solo lì. La differenza è che io concentro di più la liquidità, quindi di solito le fee che si guadagnano sono più alte. Infatti se si va a vedere nelle informazioni, nei grafici, c'è una preview delle fee che si guadagnano, cioè la si può calcolare in verità. Se io vado a vedere il pool, ad esempio USDC e TH, posso andare a fare il calcolo vedendo le fee in 24 ore e la divise per la liquidità totale, moltiplicate poi per la mia liquidità. Quello è quello che guadagno io in 24 ore. E chiaramente, essendo più concentrata la liquidità, è più efficiente anche il discorso delle fee. Cioè io di fatto guadagnerò di più rispetto a Uniswap V2. E devo scegliere io dove concentrarla, sapendo che se esce dai confini, io sarò tutto esposto da una parte o dall'altra. Mentre qua in mezzo vale il discorso del pool. Questa è l'unica differenza, perché poi qui non c'è il farming, su Uniswap non c'è il farming. Andando avanti, se volete un approfondimento su Uniswap V3, ditemelo che lo facciamo a parte, se no qua ne parliamo veramente per ore. Se andiamo avanti, Osmosis è identico, però è su Atom, su Cosmos, quindi ci vuole Kepler come wallet. Lo scambio è esattamente identico, non ve lo faccio manco più vedere. Il pool ha una sua particolarità. Abbiamo pool, ad esempio Atom-Osmos, supponiamo, dobbiamo sempre dare liquidità. E c'è la possibilità di darla single asset. Però andiamo un po' a sbilanciare il pool in questo modo e quindi a cambiare il prezzo, teoricamente, degli asset all'interno del DEX. Però è una forma indiretta di impermanent loss, perché se sballo il prezzo, io vado a incentivare arbitraggi e gli arbitraggi mi danneggiano. Ok? Quindi però è possibile. Se ho solo Atom, vado a dare solo Atom. Ricevo il token LP, di nuovo come percentuale della quota del pool che ho. Faccio Start Earning. Decido per quanti giorni vincolare la liquidità. Quindi scelgo 14, vuol dire almeno 14. Posso lasciarla anche tutto l'anno, se voglio. E ho un APR, vedete, più alto. I token GAM1 sono i token LP, vado a metterli, tac, faccio bond e inizio a ricevere le mie bellissime ricompense. Poi quando li voglio sbloccare faccio Unbond e prelevo, quindi cambio di nuovo token LP con liquidità e basta, nel senso che poi vado a fare quello che voglio con la liquidità che ho. Andiamo sul mondo Solana, quindi Saber, di nuovo abbiamo il nostro swap, abbiamo i nostri pool, ai quali posso dare liquidità, USDC, USDT, deposito. Anche qui posso scegliere a piacere perché sono pool stabili tra loro. Vado a dare liquidità, ricevo il token LP, vado sulle farms, metto il mio token LP qui dentro in staking. E adesso non me li carica neanche, volevo vedere se me li faceva vedere, ma magari, vabbè, un'altra volta. Forse devo collegare il wallet. Vediamo. Adesso ce le carica? No, neanche. Forse sono inattive, HS si è spostato da qualche altra parte. Adder, ah no, sono qua. Eccole, vado a mettere in stake il mio token LP, vedete. S-O-E-T-H-E-T-H-L-P, ad esempio in questo caso, e inizio a guadagnare i token S-B-R del liquidity mining. Non cambia nulla, la dinamica è sempre quella. E poi posso fare il claim direttamente da qua. Radium, radium identico, pure questo. Liquid, cioè swap, vado a fare lo scambio. Con slippage tolerance che posso settare, eccetera, eccetera, eccetera. Liquidity, vado a dare liquidità e ottengo il token LP. Farms, vado a mettere... M'ha rimbalzato lì, no, ok. Farms, vado a mettere in staking il mio token LP e guadagno la ricompensa in REI. Anche qua probabilmente c'è da collegare il wallet, non per forza, ma vabbè. Vedete, REI SRM LP, vado a dare il token LP qua dentro e inizio a guadagnare questo APR. La differenza con, in questo caso, c'è una cosa in più. Se io vado su trading, vedete, ho il trading con l'order book. Quindi posso fare sia swap che trading, dove posso mettere i limit order, i market order, eccetera, eccetera, eccetera. E andare, vedete, a dare liquidità, di fatto. Utilizzo una forma di trade più Binance-like, diciamo, quella che abbiamo visto prima. Poi ci sono altre funzionalità, tipo le IDO, eccetera, eccetera, ma non ne parliamo oggi, se no non finiamo più. One inch, ultima cosa, è interessante perché ti fai routing attraverso altri DEX. Quindi, se tu vuoi fare uno scambio, ad esempio, e ti accadai, lui, vedi, ti trova a volte il tasso di cambio migliore tra i vari DEX. Quindi è comodo e io tendenzialmente utilizzo questo ove possibile, proprio perché ti fai routing ottimizzato, non solo tra i pool di un DEX, come fa il DEX stesso, ma tra tutti i DEX. Molto bello. E quindi, sì, è assolutamente ottimizzato. E anche qua si può mettere il limit order, tra l'altro, che è, insomma, solo su alcune chain, però, mi pare. Non l'ho mai usato, in verità, ve lo confesso. E poi si può, si può, si può, si può andare a dare liquidità, perché io posso andare a fare farming. Non so se è ancora attivo, il liquidity mining, in realtà, su 1inch. Non lo so, sembra di no, perché non mi ci va, non mi ci va, e niente, come non detto. Però, se ci fosse, è identico. Vedete, qua mi fa vedere i vari tassi di cambio. Se ci fosse il liquidity mining, sarebbe assolutamente identico agli altri, perché abbiamo sempre liquiditato, che nell'EPI, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, io vi ho asciugato, sono sicuro, però ho voluto farvi vedere le principali interfacce e come, alla fine, tutto ritorna a questo modello molto semplice. Sì, spero vi sia interessato e vi sia piaciuto. Come sempre, se avete domande, fatele nei commenti, che così ne prendo spunto per le prossime puntate. Vi faccio un carissimo salute e alla prossima.